Di questo bagno imperiale, me ne hanno parlato tanto per me. Andiamo a vedere com'è. Io ho i letti buoni, ma qui come sono i lettini sotto le tende. Per il giorno dicono che sono i migliori. Hai scelto la cabina. Ora la cabina e ho anche la doccia. Ma c'entri in doccia te? Babbo, alla promo di giugno ci abbiamo pensato. Con le offerte estive di Riccardo Corredi, va in vacanza sereno. E inizierate a ottobre, da 29 euro al mese a tasso zero. Anche sul materasso col frigorifero. Sì, tasso zero vero. Vero come noi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ma sempre freschina. Io mi ricordo da piccino, la mia mamma mi portò al mare. Vedi questo, dici, oh che lago è. Ma te ci arrivi la nostra fino lì? Sì, non ci arrivo neanche il patino lì io. Questa è la mia tenda, vicino al bar. Ma come? Ma perché sei in montagna qui? Allora, lungo il braccio ci arrivo. Ora andiamo a mangiare. Diceva la donna, è il tocco? È il tocco. È il tocco passato. E un gelatino te lo fai? Eh? Puppa. Com'è difficile scegliere il letto per la tua camera? Tra modelli, misure, colori, c'è veramente da impazzire. Viste tutte le varianti di letti, contenitori, fissi o con le reti con telecomando motorizzate, alza schiena e gambe. Il letto è un pezzo troppo importante della vostra camera per sceglierlo fatto in serie. Poi i letti comprati nei grandi magazzini o su internet sono noiosi quando iniziano a cigolare o a rompersi le doghe. Solo venendo nei nostri negozi ti renderai conto della nostra qualità. Ti spiegheremo la differenza che c'è tra come li facciamo noi e quelli che magari hai già visto. Sono realizzati artigianalmente da mani esperte che li fanno da una vita. Il vostro letto non sarà solo robusto, ma unico. Da 45 anni vi consiglio nel riposo sano e naturale. Un riposo italiano no di importazione. I materassi da Riccardo Coradi ci sono bordati, sfoderabili e linea medica. Ma quando vedete altri che vi offrono a 200 euro, rete, materassi, piatti, vengano a casa e 200 euro diventa altri mila. Non è più una pubblicità. Per me è una truffa, allora quando dico di Riccardo Corredi ti puoi fidare, vieni nei negozi, provi il materasso, il prezzo è di fabbrica e lo puoi pagare a tasso zero. Non lasciatevi ingannare, perché non è più il momento della lampada ad Aladino. E non dimenticate di venire a provare il materasso col frigorifero per stare freschi tutta l'estate. Offerte estive su materassi, letti e poltrone relax a partire da 29 euro al mese. Con il tasso zero e la prima rata d'ottobre, parti in vacanza sereno. Da Riccardo Corredi trovate le poltroni in tutti i modi, alzanti, relax. Non dici la cosa più importante, tutta qualità italiana, garanzia e assistenza direttamente da noi, perché quando vendiamo una poltrona non ne vendiamo una e ne regaliamo un'altra, ve ne fanno pagare tre, quindi avete uno sconto di fabbrica, ma prezzi diretti dalla produzione al consumatore. E l'esperienza che ci contraddistingue da oltre 45 anni. E poi a giugno c'è anche il tasso zero. Ovvio papà, prenotare si è prenotato tutto. Per quest'estate... All'offerta ci penso io, ti fa un'offerta da mare. Vai. Compri adesso e cominci a pagare da ottobre in poi 29 euro al mese a tasso zero, perché di interessi te li paga Riccardo Corredi. È ovvio che di noi ti puoi fidare.